Oh guardate, dopo la Ford stavo proprio aspettando l'occasione giusta per poter buttare anche gli ultimi 3000 crediti che mi sono rimasti in altri oggetti non scambiabili, perché voglio dire cosa te li porti nella tomba i crediti? Probabilmente sarebbe comunque un modo migliore di usarli. E allora, bundle alle chance? Anzi, bundle alle chance? Cringe! Abbiamo tre nuovi bundle, due di cui non ci interessa assolutamente nulla, ma per 3000 crediti, che per meme chiameremo V-Bucks, abbiamo la possibilità di comprare il bundle giocando col fuoco che include la fannec, l'adesivo animato dio del fuoco mercato nero, le ruote, Pyrrhos, Firros, Fyrros, Pyros, le dico tutte così non sbaglio, L'esplosione goal, fuoco invernale, mercato nero, ho appena detto fuoco invernale, la scia a fiamme e il propulsore, Pixel Fire, il tutto appunto per 3000 V-Bucks, un'offerta irrinunciabile. E allora, meme a parte e scherzi a parte, benvenuti in questo nuovo video, penso che non sia malvagia come offerta, tutto sommato, il problema è che con gli oggetti non scambiabili rischi, perché se poi non li usi non li puoi rivendere, quindi sono un po' dei crediti buttati, Ma a noi piace buttare i crediti, quindi senza indugi, 3000 crediti, fannec, dio del fuoco, Pyrrhos, Pixel Fire, fiamme, fuoco infernale. Ok, 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 andiamo a creare un preset utilizzando tutti questi oggetti e quindi sì, il pacchetto come è stato pensato. E allora, lo vedete questo fuoco? E no, non è una minaccia, questa macchina ultra focosa, ultra kawaii, vi sta riscaldando il cuore e lo spirito, e quindi mi piace, iscrizione, commentino, fatemi sapere cosa ne pensate di questo bundle, e andiamo a vedere chi della gang è disponibile per un paio di partite. Ah, PS, per chi volesse usare i miei stessi colori, visto che sono in tono con le ruote, i colori sono esattamente questi. La squadra blu, guardate, nemmeno ve la mostro perché non c'è azzecca niente. Neverlaki, squadra blu, che palle. Vabbè, sarà un riscaldamento, certo. Ma che fai? Ma non si gioca da due mesi, vuoi fare i ranked? Ma va, li apriamo. Vabbè. Vedo. Nel senso mi apro. Guarda, 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 guarda. Easy, uno ha quittato, ha preso paura. No, no, Rialat. Io comunque mi sto trovando clean con la Fennec. Non lo usavo... Vabbè, a parte che era la mia main prima. Beh, la Fennec... È bella la Fennec. È bella, bella. Quasi quasi mi prende la scimmia, me la riprendo bianca a titanio. Vedremo. Ma non penso. Quasi è una foca. Ma da foca. Ero sembrato un attimo Rialat che era arrivato sul fondo e non la mette in mezzo. No, volevo dire più... Non lo so. Più aggressivo. No, un Frabotta. Perché è tipo la quarta volta che vai sul fondo. E la metti di merda. Eh, questo era goloso. Eh, sì, sì. Ma nessuno lo ha trastato. È un golasso? No, vabbè. Ma l'hai visto? Ma era Stox, Rialat Gallo. Ci mette scherzando? Rialat, hai visto che tiro cacciato dove è andato? Sì, l'ho visto, l'ho visto. All'incrocio. Sono andati in due a prenderla. Mamma mia. Uh, vai la doppietta. Ma almeno questo diamond l'ho fatto io. No! Ma perché dai? Ma come l'ho lisciata lì? Ma perché fissi squadra blu? Che palle. Non c'era neanche tipo alla Zantropo sul trattino alto. Rialat pos. Che culo che me l'ho trovato io di spesa. Vabbè, dai però, eh. Ah, gaga, gaga, gaga. Con la Dominus l'avrei presa. Sandro è i denti dopo. No. Qua ci staremmo. Uuuuh. Sium. Er, fogo infernale. Ma in verità è goloso. No, Rialat. È comodamente entrata. Mamma mia. Arati. Dargallo. Ma se ci giochi ancora... a Rocket, Gialdo. Ma era tanto che non giocava. Era tanto tempo. Vabbè, ma eri in training. Si stava nerdando. Sì, sì. Ma infatti... Vabbè, anche io ho fatto 5 minuti di training. Only squadra blu. Che palle. Rialat è facile. Era facile però da parare. Guarda qui. Come glielo aggiusto. Perfetto. Però qua mi aspettavo una parata. Da me? Sì, sì, sì. Gli ho bampati! No. Cioè, sì, ma... Eh, volevo anche lui. Facile. Me l'hai toccata a no. Sì. Grande Albe. Sium! Con la Fennec. Dominus o Fennec non cambia niente. Qua però volevo riprenderla. L'ho lisciata. S'erbe stato più clean. Ma che imponenza. Ma tira delle scanne comunque la Fennec. Col fronte. Esagerato. No, volevo. Dare potenza. Bellissimo. Che cazzo. All'Aki. Tiro. No. Ma l'ho chiamato! L'ho chiamato però. Ma era fissa in porta a Rialat. Ma ho sbagliato, ho sbagliato. Ho premuto X per sbagliare. Vedi che c'è fatto? Io l'ho detto tiro. Ti scanzato. Avevo avvertito. Ho sbagliato la livezione. Vaffanque. Perché ho premuto il tasto... No, perché ho premuto il tasto di su. Il tasto del dorsale. Eh, ma infatti i dorsali vanno disattivati durante Rocket. Lo devo fare pure io. Lo devo fare pure io. Devo mettere il secondo preset con i dorsali disattivati per Rocket League perché giocare con i dorsali non è cosa. È bella, è bella. Perché pure io però ho il dorsale del salto che spesso lo pigio per sbaglio mentre faccio cose. Vado io. Vai tu. Perché ormai era andato. Eh. A quel punto. Rialat! Mamma mia! Cosa che non è stato Rialat. Zantro portiere. Zantro portiere. Dai, ma cos'è? Perché deve volare questo? Ci sei, ci sei. Goal! Il king! Ah, dove sei andato? Hai fatto golla. Ma perché vedo... Perché vedo che ne hai solo uno? Ah. Eh! Non è merito che era un gioco. Dai! No, Rialat il colpetto di tacco. Guarda che ci prendiamo il 4-4. Proprio da lui, da GX. Ma Rialat sta a zero gol. Vabbè. Poi loro hanno quattro gol avendo segnato il 3-3. No, Rialat... Chissà come mai. Cosa? Vai, Rialat il gol vittoria. Mamma mia. No, noi abbiamo 5 gol che in verità ne abbiamo almeno segnati 7. Guarda il loro... Ah, no, vabbè. È uscito lui. È abbandonato. Ah, sì, sì, sì. Perché aveva quittato... Perché aveva quittato. Ti ringrazio per la visione. Se il video ti è piaciuto... No, vabbè. Sei un figo. Sei un figo. Ciao! Ciao!